un caro saluto da diego fusaro è tornato a farsi sentire il visconte dimezzato giuseppe conte che fu avvocato del popolo e poi avvocato dei mercati che ora sembra di nuovo voler far la parte della dell'avvocato del popolo contro la guerra ebbene è tornato a farsi sentire proprio lui che ci inflisse i lockdown più duri nel 2020 che fece le sue epifanie vespertine del sabato sera per imporci restrizioni liberticide di ogni tipo e che adesso è diventato di nuovo avvocato del popolo e della libertà né il novi sub sole lo chiamammo a suo tempo il visconte dimezzato con un doveroso tributo a calvino e in effetti continua a essere spaccato in due c'è la parte buona per il popolo e la parte meno buona per i mercati e per il rapporto di forza dominante ebbene proprio lui il visconte dimezzato ha tuonato contro silvio berlusconi da che come sapete silvio berlusconi ha detto di aver ripristinato i suoi rapporti con vladimir putin il quale putin addirittura ha mandato delle bottiglie di vodka e una dolcissima lettera così ha detto berlusconi al cavaliere di arcore e berlusconi a sua volta detto che ha ripristinato i rapporti con putin al quale ha mandato a sua volta delle bottiglie di lambrusco e una lettera anch'essa dolcissima conte non ci sta e dice che non è certo il momento per scrivere lettere dolcissime a putin e per ripristinare il rapporto eppure bisognerebbe pur ragionare su questo aspetto a che titolo conte dice che cosa si può e non si può fare a che titolo pretende di negare il diritto agli altri di avere amicizie buone o cattive che siano fa un po ridere il contesto ma è questo il mondo in cui ci troviamo direbbe hegel ic rodus ic salta questa è la realtà e questa dobbiamo interpretare senza spingerci chimericamente al di là dei suoi confini in ogni caso è intervenuto conte per rampognare silvio berlusconi proprio quel conte che fu avvocato del popolo poi dei rimercati e ora sembra che stia di nuovo giocando a fare l'avvocato del popolo opponendosi in questo modo in maniera pienamente condivisibile sia chiaro alle ragioni della guerra anche se potrei ricordare male il movimento 5 stelle in origine non era così contrario a questa guerra e all'invio di armi all'ucraina ma potrei ricordare male chissà